Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico la proposta di risoluzione sulla relazione dell'attività svolta nel 2022 dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi, Nel testo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui crescenti problemi, anche effetto della pandemia da Covid-19, legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori e sulla conseguente necessità di investire nella prevenzione, nell'accesso a forme di supporto adeguate, al fine di incidere in modo positivo e duraturo sulla vita di bambini e adolescenti. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022 e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del garante nel corso del 2022, del fatto che il garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche del trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la prefettura di Firenze. Nel corso del 2022 sono state confermate le adesioni da parte del garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del garante anche con riferimento all'attività, alla tutela dei minori relativamente all'attività di cyberbullismo, tutte attività che in vero il garante svolge da diversi anni ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Ad ogni buon conto, con l'auspicio che si possa arrivare presto anche ad una revisione della figura del garante per l'infanzia, la normativa infatti del 2010, quindi piuttosto risalente, anche alla luce delle diverse figure di garanzia che esistono o che dovrebbero esistere a livello regionale, il Consiglio ha comunque approvato a maggioranza la risoluzione che ha espresso apprezzamento all'attività del garante per l'infanzia per l'anno 2022. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso garante ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e dell'interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione delle garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno a prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la Giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio. Si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri dentro i quali lei si può muovere. Per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. loro auspicano e loro governano. Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la garante o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone e quindi non sono coerenti con quanto la regione toscana pensa di quel ruolo e quindi la invitano a fare altro oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice ho bisogno di struttura e la regione toscana anziché dirgli non è vero o non hai bisogno oppure signi hai bisogno eccola, auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani necessiti di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incesivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi d'incontro, delle forme di aggregazione ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo, il cyberbullismo ma anche questioni che riguardano un uso consapevole diciamo del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massima attenzione a quelle che sono anche diciamo alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. È chiaro che in questo momento parlare del garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze in cui degrado, marginalità sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi ma diventa anche quasi preonastico parlare del ruolo del garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare è inutile avere 500 garanti in regione toscana che sono solo poltrone e sono solo posti dobbiamo individuare su quali politiche puntare in primo luogo le politiche per la famiglia perché da nucleo familiare qualunque esso sia io non ho nessun tipo di preclusione parte che cosa? L'educazione il futuro anche delle giovani generazioni e certamente ecco oggi più che mai dobbiamo avere ripeto ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo le figure vengono dopo oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione il patto generazionale oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci con risorse importanti io credo sia un altro segnale quindi meno garanti meno poltrone più politiche diciamo efficaci per famiglie e giovani presentata in consiglio regionale la 35esima edizione del festival Torrita Blues che si svolgerà a Torrita di Siena da giovedì 22 a sabato 24 giugno l'evento nato nel 1989 da un gruppo di amici amanti del blues è diventato nel tempo uno dei più importanti e longevi festival blues in Italia in Europa e nel mondo tra gli artisti internazionali e italiani ospiti del festival Alex Britti Irene Grandi il trio insolito e la band The Cruise Roads ci sarà anche il ritorno a Torrita di Siena del Chicago Blues con il figlio di Muddy Waters Mud Morganfield primogenito del grande bluesman un evento importante un evento che racconta bene la bellezza di una Toscana diffusa Torrita Blues renderà Torrita la capitale toscana della musica del blues in questi giorni un evento importante un evento da far conoscere un evento che tiene insieme cultura che tiene insieme arte perché Torrita è uno dei borghi più belli della nostra regione che tiene insieme anche la capacità di saper fare solidarietà questa è la Toscana ci sarà una cena in cui le risorse arriveranno e verranno messe a disposizione di Casa Marta un luogo bello un luogo importante un luogo che aiuta i bambini che soffrono quindi grazie davvero per queste giornate che siano momenti di festa di divertimento ma anche di solidarietà il giovedì si apre con tre band che sono quelle vincitori di Effetto Blues Effetto Blues è la tradizionale ormai competizione chiamiamola così anche se di fatto non lo è dove scegliamo i gruppi che saliranno su quel palco è frutto di una selezione italiana e quindi questa è quindi l'ingresso è gratuito per quanto riguarda gli spettacoli la cena ha un costo di 20 euro lo dico perché è una cena popolare con questo scopo anche benefico dicevo che è particolarmente ricca perché il 23 si aprirà con tre band inizia Trio Insolito si chiama Trio Insolito perché sono in quattro la piccola chicca è perché sono dei professionisti tra l'altro uno professionisti in termini di vita perché sono primari o medici dell'ospedale di Bologna e dell'università i quali essendo appassionati di blues vanno in giro per l'Italia a raccontare la storia e quindi sarà una piccola chicca che aprirà poi quella che ha la veletta seguirà i Crossroad i Crossroad sono una band che ha vinto l'Italian Blues Challenge noi facciamo a livello nazionale una selezione che poi rappresenterà in Europa nell'European Blues Challenge e l'Italia sono appena tornati dalle finali europee che si sono svolte quest'anno in Polonia quindi poi sarà veramente una piccola chicca italiana perché quest'anno sarà presente Irene Grandi Irene Grandi rappresenta in questo momento un motivo particolare perché ha questo progetto che si chiama Io in Blues nel quale riassume un po' la sua carriera come dall'inizio rendendo omaggio a quella che per lei e per tutti noi è la musica che ha dato origine a tutto quello che ascoltiamo per noi è un grande piacere avere Irene come ospite soprattutto in questa versione in questo progetto dove farà un concerto esclusivamente blues Posso dire che 35 anni che facciamo blues a Torrita grazie all'associazione Torrita Blues è un'associazione a questo punto sicuramente storica porta nella nostra piazza di Torrita degli esponenti di questo tipo di musica importantissimi quindi abbiamo ospitato anche per questo motivo abbiamo ospitato nel 2016 il festival europeo e quindi è diciamo un appuntamento tradizionale e posso anche dire che durante il periodo della pandemia non ci siamo fermati abbiamo fatto un'edizione di quelle come usavano in quei tempi insomma assolutamente in sicurezza pur di non fermarsi quindi è un'associazione che ci tiene a che questa tradizione del blues venga mantenuta a Torrita e come amministrazione la sosteneremo sempre è una manifestazione molto legata al territorio però è giunta alla 35esma edizione 35 anni insomma in una realtà come Torrita di Siena inizia ad essere molto importante anche se importante lo è per definizione perché è uno dei festival più importanti a livello europeo richiama grandi gruppi blues richiama tanti appassionati e tante persone legate a questo genere di musica e insomma in questi tre giorni il castello di Torrita di Siena è un castello medievale molto bello si riempie di persone di artisti c'è quella bella atmosfera dei festival musicali insomma si respira in tutta la zona è un invito a vederlo per i nomi che ci sono quest'anno tutti gli anni ma quest'anno in particolare insomma abbiamo anche Rene Grandi e tutti gli altri che sono già stati elencati quindi è un invito per tutti a visitare Torrita ma più che altro a godere di bellissima musica di alto livello blues grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti